Benvenuti all'Italian Series of Poker 2015, siamo all'hotel Casino Perla di Nova Gorica ed oggi alle 15 si disputerà il Tournament of Champions, torneo aperto a tutti i vincitori di un evento ISOP. Alle 17 invece ci sarà il day 1 dell'attesissimo Six Max che terminerà giovedì alle ore 14 con il TV Table. Esatto Alessia, e mentre alle 21 ci sarà il side event Nitro Turbo e alle 22 il Super Satellite e per il main event che verrà disputato questo venerdì. Sala Gremita Come potete vedere alle nostre spalle, infatti i giocatori sono in costante aumento per questo campionato italiano Six Max e che ha richiamato anche un sacco di nomi importanti, Ema. Esatto Alessia, ricordiamo che il numero è in costantamento, al momento ci sono giocatori di un certo spessore che sono Sergio Castelluccio, Rocco Palumbo, Enrico Mosca, Cristina Pavia e chi ne ha più ne metta. Insomma, secondo me si prospetta un evento molto molto interessante. Interessante come il press pool che si sta andando a creare e che naturalmente ricordiamo essendo l'evento numero 9 assegnerà un altro braccialetto a questo e decreterà un altro vincitore. Un altro vincitore che sarà il campione italiano dell'evento Six Max. A presto A presto A presto Grazie a tutti.